Sapete cosa state guardando? Si tratta di un tubo a raggi X ed è presente davvero nella vostra vita di tutti i giorni, ma sapete com'è fatto? Al suo interno troviamo il catodo, che è il punto in cui vengono generati gli elettroni attraverso questo filamento e poi vengono indirizzati verso questo foro e andranno ad impattare questa placchetta di tungsteno. Si genererà calore e anche delle radiazioni che vengono poi utilizzate per diversi scopi, dal medicale alla metallurgia. E dopo tutto, anche questa è ingegneria.